Vigila Francesco, fratello santo sul nostro popolo, illumina i governanti, veglia sulle sorti dell'Italia, guarda con benevolenza la nostra regione Marche, rafforza i vincoli di unità, solidarietà e fraternità. Benedici i lavoratori, dona loro e a tutte le famiglie prosperità e pace. Con queste parole il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, a nome di tutti i comuni marchigiani, ha donato l'olio per la lampada avutiva del poverello di Assisi in occasione della celebrazione nazionale di San Francesco, patrono d'Italia. La lampada è stata accesa domenica durante il rito religioso ufficiato dall'arcivescovo metropolita di Pesaro Monsignor Piero Coccia, nella Basilica Superiore del Sacro Convento. I 700 litri d'olio donati da diversi frantoi saranno destinati anche alle associazioni caritative francescane e della diocesi di Assisi. È la quinta volta che tocca alle Marche consegnarlo. La prima fu nel 1946, poi nel 65, nell'82 e nel 2000, oltre alle autorità militari e religiose, erano presenti alle celebrazioni anche le più alte cariche dello Stato, tra cui il Premier Conte e una delegazione di 77 sindaci delle cinque province, prima uscita ufficiale per il neogovernatore delle Marche. È una grande responsabilità, è una grande testimonianza e anche un messaggio importante che bisogna dare perché credo che la presenza del segno di San Francesco, la nostra regione, è tangibile sia dal punto di vista materiale, con tanti conventi, chiese, chiostri, sia di San Francesco che di Santa Chiara, ma è anche stata presente nei secoli con un segno sociale, oltre che spirituale, molto tangibile. Credo che sia una bella occasione per il rilancio di questi valori e per il rilancio di un messaggio, soprattutto in questo momento così difficile, a causa della crisi economica, a causa della pandemia, ma anche e soprattutto a causa della ricostruzione che lascia al di fuori delle proprie abitazioni e ancora tante famiglie e tante comunità.